Ciao a tutti, bentrovati. Oggi vi faccio questo piccolo video che ho chiamato omaggio a Checco Zalone, perché è lui che mi ha fatto venire l'ispirazione per parlarvi di questo siero che sto usando anche io in questo periodo. È un siero con torno occhi. Lui ironicamente nel film diceva di non poter fare a meno dell'acido ialuronico. Effettivamente è un prodotto, un principio attivo, che se voi usate tutti i giorni sicuramente ne troverete aggiungamento. Questo siero che ho composto io è fatto oltre ad un alta percentuale di acido ialuronico con caffeina, gel di aloe vera e acmella. Sono tutti i prodotti, tutti i principi attivi che servono appunto a stimolare e rigenerare la pelle in modo da distendere anche bene tutto il contorno occhi. Ora non posso farvi vedere il tutorial perché qua dentro non ho tutto il necessario. Io ne metto soltanto due gocce nel contorno occhi picchiettandole così e lo uso quotidianamente mattina e sera dopo aver deterso gli occhi. Vedrete che ne troverete giovamento e ottimi risultati perché distende la pelle, aiuta a combattere le rughe e contrasta anche l'aspetto di stanchezza, quindi vi darà uno sguardo anche più acceso, più limpido e più bello. Bene, anche oggi vi ho dato il mio piccolo consiglio di bellezza e non dovete fare altro che attuarlo. E se volete il tutorial magari scrivetemelo nei commenti, poi vedremo di provvedere a fare anche quello. Ciao ciao, alla prossima!